Immagino avere i poteri di un dio su Minecraft, questo è quello che sono andato a fare oggi Difatti con questi poteri ho fatto cose straordinarie tra cui comandare un esercito e costruire un villaggio Ma prima di partire ti ricordo che se ti sto simpatico puoi cliccare sul tasto del mi piace e iscriverti al canale Ok ragazzi l'obiettivo quindi è quello di creare un impero enorme che noi dovremmo comandare Quindi prima di tutto andiamo a scegliere il posto dove iniziare questo impero direi proprio qui su questa bellissima pianura E abbiamo i nostri primi villager abitanti, i moteli, Santerfed, Noah e Aki Secondo me ci stanno un bel po' Allora come prima cosa io direi di andare ad ordinare loro di distruggere gli alberi Perché noi abbiamo bisogno ragazzi dei materiali Quindi facciamo deforestare tipo tutto quanto in questo bellissimo modo Perfetto così così si Bello deforestate tutto Vai prendiamo tutti questi begli alberi che ci servono i materiali Oddio ma quanto sono veloci a spaccare gli alberi Sono velocissimi Ok direi di dargli qualche altra task Allora qui abbiamo tipo tutte le cose che possono fare Però non mi piace sono solamente 5 e sono troppo pochi Allora direi qui di andare ad eliminare tutto questo spazio Quindi andate a ru... No aspetta non dovete... No no state sbagliando state sbagliando Allora quindi a quello che ho capito questo comando loro vanno a ricostruire con i blocchi che voglio Quindi io voglio andare a mettere la legna Prendiamo quindi la legna Quindi se io prendo questa legna e faccio da qua Oddio fino a qua Dovrebbero iniziare a piazzare la legna dove voglio io Che bello So si che bello E di spostarci da questo posto Andiamo in un posto molto più bello Molto molto più grande Vabbè diamogli qualche altro comando Quindi dato che loro fanno di tutto Io direi di andare a costruire qualcosina Abbiamo delle piccole case Dato che noi dobbiamo creare un villaggio Andiamo a fare... A mettere... A scegliere dei posti per queste piccole case Per tutto dire che questa casa ci sta Dai vediamo se vanno a lavorare Ok venite Allora direi di partire così Ok Adesso si divertono Venite venite a costruire Miei schiavi Costruite Sarete anche pochi Ma lo stesso dovete lavorare Guardate come mi guardano Guardate guardate come dovranno lavorare Intanto si divertono anche a fare questo No Aki Aki No 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 Aki No Aki Ragazzi stiamo perdendo Aki No No ragazzi Come faccio? Rimuovete... Abbiamo perso Aki No No Aki No È arrivato Travis però È arrivato... È arrivato Travis S'è andato Aki È arrivato Travis Dai Uno si arriva Un altro arriva Va bene comunque Va bene comunque Voi nel mentre lavorate Abbiamo perso un altro Che fino ha fatto l'altro Siamo quattro Ma come? Ma come muoiono ogni secondo Ma siete... Siete proprio stupidi allora Qua avete mancato eh Qua avete... Qua avete... Qua avete mancato Ecco bravi Lavorate bravi No questi no Allora Vediamo questa casa Se possiamo costruirla Qua la possiamo fare Ah la dobbiamo costruire noi Ah capisco Quindi Andiamo a buildare Dobbiamo fare prima di tutto Così Ok facciamo questa prima parte Confermiamo Ok vai Costruite Costruite La casa che vi sto per dire io di fare Dovete costruire la casa Che vi dirò io di fare adesso Ho sbagliato Ho sbagliato Ok costruite Costruite Mi sembra più un muro che una casa Ma dove vanno? Dove vanno? Dovete costruire Dove andate? Brutti schiavi Costruite Quelli che stanno andando Non mi piace questo fatto Li dovrei licenziare Che ne dite ragazzi? Scrivetemi nei commenti Se questi Questi quali dovrei licenziare Perché Non mi piace quello che stanno facendo E sono curioso Della combat mod Cosa succede? Oddio Che figo Non vi vado a spiegare adesso Come funziona Però se dovessimo raggiungere 100 like Vi farò un video Sulla combat mod Che secondo me Potrebbe essere molto figo Beh si però ragazzi Questa Questa casa non si finisce da solo Vorrei dirvi Vorrei Tristemente dirvi Che questa casa Non finisce da sola Vorrei cercare di capire Come faccio Come a fargli Spaccare la roba Invece Se volessi tipo Fare una roba del genere Ok Adesso dobbiamo Solo buildare Adesso Per buildare Questa casa Andiamo appena La cobblestone Eeeh Stanno facendo l'oro Ah fanno l'oro Fanno l'oro Perché i materiali Li abbiamo Fanno tutto l'oro Che pensavo Dovessi buildare Allora Tirate giù questa casa Guardate lì Cosa stanno facendo Bravi Lavorate Bravi Bravi Hanno già finito Avete già finito Cosa Ma siete stati velocissimi Oh mio dio Ma io vorrei Provare a distruggere Tipo Una strada Come faccio Sti facessi Così Che cosa fanno Niente Non fanno niente No aspettate Invece fanno Stanno distruggendo Sì sì Adesso finalmente Ho capito Come funziona bene Possiamo iniziare La costruzione Nel nostro villaggio Ora faremo un bel villaggio Qua spianiamo tutto Spianiamo tutto Quindi adesso Io Che facciamo Facciamo Tipo da qua Fino a A qua Facciamo tutto Spianato Adesso sì Adesso sì Che mi diverto Tanto Quanto ci potranno Mai mettere Boh Due tre giorni No non credo Ho paura di vedere A che punto stanno Oh mio dio Sono velocissimi Sono velocissimi Ragazzi Sono velocissimi Ma come fanno Sono solo cinque poi Ah magari Questi foste voi Quando esce un mio nuovo video E andate subito A cliccare il like Magari Che poi ho notato Che si può anche Fagli schippare la notte Oh posso fare questo Figo Molto figo Ci sono molte cose belle Che posso fare Molte molte cose Belle belle Ovviamente loro Qua stanno Stanno spaccando Forse sono un po' lentucci A spaccare Nel mentre Che spaccano Andiamo a scegliere Cos'altro abbiamo costruito Quindi sui blueprint Qua possiamo vedere Tantissime cose Allora questi Sicuro li andiamo a fare Sicuro li andiamo a fare Dopo Sicuramente Mi piacciono Mi piacciono Mi piacciono molto Mi piacciono molto Andiamo a fare subito La fontana La andiamo qui a mettere Ok Quindi la dovranno andare A buildare Andiamo a vedere Gli altri blueprint Che abbiamo Cioè sarebbero Gli altri progetti Ovviamente Le farm Le farm ci servirebbero Le farm servirebbero Perché per un villaggio Per poter vivere Servono delle farm Quindi Le farm Ce le andiamo a mettere Direi di metterle qua Ho sbagliato Direi di metterle qua La farm Ok Adesso divertitevi anche A costruire quello Buona fortuna Buon divertimento Nella costruzione Di tutte queste cose Perché qua dovete ancora Finire di spaccare Ah vedete che siete pochi Siete anche lenti Si dovrebbero moltiplicare Ma non si vogliono Moltiplicare Questi stupidi Sì ma Spaccano velocissimi Perché hanno messo un blocco Ok L'hanno pure tolto Oddio Allora Quando finiranno Di fare tutta questa parte Di spaccare tutto Dovranno passare Alla costruzione Di questo e quell'altro Io direi che una notte Poi la facciamo anche Passare Perché voglio vedere Come combattono loro Voglio divertirmi A vedere come combattono Contro i mob Oddio Stanno iniziando a costruire Stanno iniziando a costruire Qua stanno spaccando Ah no Stanno Stanno Sì Ecco ecco Le prime costruzioni Iniziano le prime Ma quanto sono veloci Stanno piantando pure i semi Non ci credo Stanno piantando pure i semi Incredibile Adesso Guardate quanto sono belli Quanto sono carini Sono fortissimi Ho cliccato per sbaglio Adesso devono tipo Spaccare tutto Vabbè non sarà un problema Oh mio dio Hanno finito di costruire Allora io direi di fare Tipo delle mura Del villaggio Delle prime mura Delle mura primarie Quindi Andiamo a prendere Il blocco Con cui dovranno costruire Io direi di prendere Delle mura Le facciamo in mattoni Ragazzi In mattoni Quindi il brick Secondo me Secondo me ci stanno Facciamo così Facciamo da qui Fino a qui In questo modo Ok Costruite Costruite Lo facciamo da qui Fino a qui Da quest'altra parte Alziamo Fino a Direi tipo Fino a qui Dai E poi da qui Ma qua che è successo Perché si stanno fermando E Ehi Volete essere protetti Sì o no Questa parte Fino a Eh vabbè Qua ci divertiamo Arrivano i primi mob ragazzi Chiudiamo subito questo muro Chiudiamo subito questo muro Che arriva già un creeper Dobbiamo vedere come Lavoreranno contro I primi mob Stanno fettando Combat mod Dai Vediamo la combat mod Vediamo come fightano Ma stanno scappando Stanno scappando Guardate come scappano Questi collardi Beh facciamo skip night Almeno Li facciamo sopravvivere Dai Loro non se ne importano E dato che io sono il loro dio Continuano a costruire Senza alcun problema Si sta distruggendo Quindi mi fa vedere La barra che si sta spaccando Vabbè Spieghiamo qualcosa In altro da Costruire Una casetta Vediamo di fare una bella casetta Che ne dite Sì sì Una casa Un paio di case Quindi ci mettiamo sicuramente Una casa qui Poi ci mettiamo Qui una Una casa di lusso Questa la foggia Ce la mettiamo ragazzi Per forza Per forza Andiamo a ruotare Direi che così va bene Facciamola Facciamola Crescere Facciamola spawnare Qua c'è un creeper Qua c'è un creeper Cattivissimo Nessuno l'ha invitato Brutto creeper Poi scegliamo ancora Un'altra costruzione Da far fare Nossi carissimi Bellissimi cari Devi fare tipo questo Sì 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 Perfetto Adesso non ci tocca Che aspettare Che loro finiscono Di costruire E' esploso Il creeper Diamline E là ce n'è pure un altro Adesso esplode Anche l'altro Attenzione No Telis Siamo per perdere telis E vabbè Anche l'altro creeper E' andato Adesso iniziano le costruzioni Ecco stanno iniziando a costruire Si stanno dando da fare Si stanno dando da fare Ok Doveva aumentare un po' Ah no io non posso aumentare Non gli posso né licenziare Né fare niente Perché loro sono solo i miei schiavi No non possono fare nulla Io sono il loro dio E devono eseguire i comandi Quindi lavorate schiavi Fed Brandon Jeff Giucotto E l'altro E' scomparso l'altro Però fa niente Riportate che lavorano Ditemi se anche voi nei commenti vorreste Degli schiavi che lavorano per voi Perché fanno le peggio costruzioni Che sono talmente belle Mamma mia Quindi ragazzi Se raggiungiamo i 100 like Vi farò vedere Un villaggio fatto solo da loro Un villaggio incredibile Enorme Secondo me esce benissimo Vediamo come finiscono Di fare questa costruzione adesso E niente Hanno finito di fare anche questa costruzione Io direi che con questo piccolo villaggio Possiamo anche salutarci E niente ragazzi Grazie per aver visto questo video Noi ci vediamo Dal vostro dio è tutto Ciao ragazzi